La consolazione è che succede a tutti. Si lavora al massimo per raggiungere un obiettivo. Ci si dà da fare in modo esagerato per ottenere un risultato che si desidera davvero. E poi? E poi una volta raggiunto l'obiettivo o conseguito il risultato ecco che la tensione si allenta, la motivazione svanisce e al suo posto non scintilla quel sentimento di pienezza, di appagamento e di vittoria che ci si aspettava e diciamolo che si pensava proprio di meritare. Una bella fregatura. Può capitare a chi ha appena superato un esame difficile, a chi ha ottenuto un miglioramento di carriera a lungo desiderato, oppure a chi finalmente si è comprato qualcosa che voleva da un sacco di tempo, o a chi ha vinto un premio o ha riscosso un successo tanto atteso. Hai raggiunto un grande obiettivo. E allora titola il New York Times. L'articolo parla della rival fallacy, lo si potrebbe tradurre con la fallacia della meta raggiunta. Il termine è stato coniato da uno psicologo israeliano che insegna ad Harvard, di nome Tal Ben Shahar. La fallaccia della meta raggiunta consiste nell'illusione che una volta conseguito il risultato che vogliamo, saremo in una condizione di felicità duratura, dice. Questo succede perché tendiamo sempre a sovrastimare l'impatto emotivo positivo che l'ottenere quanto desideriamo potrebbe avere. O meglio, siamo abbastanza bravi a distinguere quello che ci rende felici da quello che ci rende infelici, ma siamo molto meno bravi a valutare l'intensità e la durata della felicità futura. Tra l'altro, come segnala Forbes, quando ci focalizziamo su un obiettivo si attivano i centri cerebrali della ricompensa e questo dà piacere. A poco a poco il senso di stare per raggiungere un obiettivo diventa parte della nostra identità. Così, dopo averlo raggiunto e dopo aver scoperto che non è perennemente luminoso come credavamo, non ci resta che alzare la posta in un inseguimento senza fine. Un ulteriore motivo è che quando ci diamo da fare per raggiungere un obiettivo, ci focalizziamo sugli aspetti positivi e ignoriamo le possibili conseguenze negative. Per esempio, una promozione significa più soldi e più prestigio, ma anche più responsabilità, più stress, meno tempo libero e il dovere di prendere un'infinità di decisioni difficili. In effetti, come racconta Business Insider, perfino vincere un sacco di soldi alla lotteria può obbligare a prendere decisioni difficili e può avere conseguenze disastrose. Delusione, disappunto, amarezza, disillusione, frustrazione, l'elenco dei sinonimi e delle sfumature emotive potrebbe essere anche più lungo. Ma ci siamo già capiti, no? Oltretutto, per certi versi, siamo tutti quanti inseriti in un meccanismo infernale di illusioni e disillusioni e per argomentare l'affermazione devo aggiungere due ulteriori elementi. Il primo è che con la promessa implicita che poi ci sentiremo appagati, siamo costantemente esortati a perseguire obiettivi di qualsiasi tipo. Da quelli irraggiungibili, anche se con qualche sforzo, mangia meglio, fai più sport, metti ordine nel caos dei tuoi armadi, a quelli più difficili da conseguire perché riguardano per esempio il lavoro o il miglioramento delle condizioni economiche. A quelli proprio impossibili, ringiovanisci. Chiariamoci, ovviamente le condizioni economiche contano moltissimo, ma come spiega il World Happiness Report, contano tanto meno quanto più i bisogni primari sono già soddisfatti. Questo oltretutto dovrebbe incoraggiare chi ha già molto a essere più generoso con chi ha poco. Tra l'altro, la generosità è qualcosa che rende effettivamente felici. Il secondo elemento è connesso col primo e riguarda l'identificazione tra maggiori consumi e maggiore felicità. Il meccanismo è semplice. Per vendere un prodotto, spesso non se ne vantano specificatamente le caratteristiche positive e distintive. Qualche volta, tra l'altro, non ce ne sono proprio, ma ci si arrampica sullo specchio dei massimi sistemi. Così un'automobile diventa garanzia di libertà. Un surgelato diventa sinonimo di gioia condivisa in famiglia. Poi uno compra quella e questo e, accidenti, non si sente né più libero né più gioioso. Frustrazione. Tutto questo ovviamente non significa che non dobbiamo darci degli obiettivi. È una vita ben misera quella di chi non ha mete né desideri né aspirazioni per il futuro. Letteralmente una vita senza scopo. Ma come la mettiamo con l'apparente paradosso che avere obiettivi ci rende felici e che dopo averli raggiunti ci sentiamo fatalmente sembrerebbe delusi? Possiamo fare diverse cose. Per esempio, sceglierci da soli mete obiettivi invece che farceli imporre dalle convenzioni e dalla pressione dei media o dalla necessità di postare qualcosa su Instagram. Darci obiettivi diversi che riguardino non solo le prestazioni individuali ma anche le relazioni sociali. A questo proposito, un lungo e dettagliato articolo su Mind Tools identifica altri ambiti nei quali, al di là della carriera e della sicurezza economica, varrebbe la pena di darsi degli obiettivi. Dalla famiglia, amici compresi, al benessere, al migliorare la propria istruzione, alle cose piacevoli della vita. Posso solo aggiungere che una delle cose piacevoli è ogni tanto ricordare di guardarsi attorno, stando attenti per davvero a quello che si viene. Un'altra è stare anche per soli 15 secondi attenti al proprio respiro. Su questi sono obiettivi raggiungibili. E poi dovremmo comunque astenerci da ragionare in termini di perdenti e vincenti e ricordarci che, come dimostrano diverse ricerche, le persone che hanno la propria felicità come obiettivo tendono a essere mediamente meno felici delle altre. Se tutto ciò sembra complicato, vi suggerisco un trucco. Coltivare un po' di sense of humor può aiutare a fare tutte queste cose tutte insieme e anche a godersi il viaggio mentre si procede verso una meta, sapendo che poi ce ne sarà un'altra da scegliere e un'altra ancora, e che essere lì per raggiungere un obiettivo è molto meglio che averlo già raggiunto e che l'aspetto più emozionante e più umano dell'intera faccenda è esattamente questo.